Amici del Basque, siamo qui con Heinz, protagonista e MVP della prima semifinale di queste Final Four. Sam, grazie per essere qui. Hai cambiato il gioco, anche perché oggi Spanulis o Printezzi non si è brillante, ma hai venuto per cambiare il gioco. È il tipo di team che abbiamo, è il carattere del nostro team. Siamo che se altri giocatori non giochano bene, altri giocatori si stanno iniziando. Credo che abbiamo un gioco completo. Oggi è stato evidenza di questo. Quando alcuni giocatori non giochano bene, siamo iniziati come un'unità collettiva. Olimpiakos si è considerato come un underdog in questa Final Four, ma l'anno scorso finale ha dato molta confidenza al team e c'era una differente attitudine sulla scuola. Siamo confortabili di essere un underdog o un favorito, o qualsiasi che vogliono le label. Noi non c'erano le label, ma sappiamo che abbiamo un po' di ragazzi nel gioco che giochano con il gioco e con la fisicalità e lavorano con il gioco. Grazie mille, Sam. Quindi, Heinz ci ha detto che lui dice sì, questa sera magari altri giocatori come Spanulli, insomma i printesi, non hanno brillato particolarmente, però noi siamo un team completo nel quale di volta in volta ogni giocatore riesce a dare il massimo. Per quanto riguarda il fatto che l'Olimpiakos non fosse considerato tra le favorite, diciamo, fosse un po' considerato l'underdog di questa competizione, lui dice a noi non ci interessa quello che pensano gli altri di noi, anche perché la vittoria dell'anno scorso ha dato a tutto l'ambiente una grandissima fiducia. Grazie.